In avvio l'errore proprio di Pankiller va e al comando cerca di portarsi subito Pinerolo che ha a largo per amore uguale Pacific Model. Pinerolo conquista la corda per amore uguale al suo esterno con Pacific in terza corsia. Passa per amore uguale su Pinerolo in 200 metri e leader. 14 secco il lancio mentre all'esterno rimane Pacific Model che poi cerca di ripiegare in corda. Ma c'è Paride che sopravviene e quindi costretto all'esterno Pacific Model, 400 che se ne vanno in 28,4 per l'allieva di Enrico Bellei. Pinerolo in scia, poi Paride, ancora Plutonio, Pacific Model esterno con Priscilla Zak più indietro. 44,2 per i 600 e non cambia nulla tatticamente con Pacific Model che rimane lì al sediolo di Plutonio che ora può alla destra libera. Intanto 59,4 per gli 800 e sempre gruppo condotto da per amore uguale Pinerolo in seconda posizione, poi Paride esce all'esterno Plutonio mentre prova a seguirlo Pacific Model. Pindietro Priscilla Zak intanto se ne va il chilometro in 1,14 e mezzo. Ora Plutonio va con decisione, arriva al sediolo di Peramore uguale quando siamo a 500 dall'arrivo, cavalli sulla retta delle scuderie. Pinerolo in seconda posizione alla corda, 400 alla conclusione, Plutonio costringe a secca accelerazione Peramore uguale. 13,7 il parziale, siamo a metà della curva conclusiva con Peramore uguale in fuga, Plutonio ancora proteso all'esterno, Pinerolo alla corda. Poi Perkins Griff, rete d'arrivo, 14 il parziale in curva, Peramore uguale in vantaggio ai 100 conclusivi. Lo scatto infine di Perkins Griff, ma Peramore uguale ancora sufficienti energie per tenere a bada l'avversario. Terzo posto per Plutonio che precede Paride, 1,12 e 7 si è marciato forte come nel Gran Paese della Repubblica. 28,5 chiudere che segue un 28,8 di penultimo quarto. Peramore uguale migliora ancora il proprio limite portandolo da 1,13 a 1,12 e 7. Vince in percorso di testa contro un Perkins Griff che finisce comunque molto molto forte sull'esterno. Al terzo posto un ottimo Plutonio.